Un rapporto di scopo amicizia con qualcuno, onestamente. Liberissimi tutti di fare ciò che gli pare naturalmente, però non è per me. Sono, punto primo, un po' troppo sentimentale. Punto secondo, per andare a letto con qualcuno devo avere un'intimità reale. Quindi se non sono fidanzato, se non ho una reale frequentazione con qualcuno, non è una cosa che mi piace fare. Per me è e rimane una cosa intima che non riesco a vivere solo e esclusivamente in maniera fisica, ma per me necessariamente ci deve essere una parte di intesa mentale o sentimentale. E quindi non credo che io potrei instaurare mai un rapporto di scopo amicizia con qualcuno, onestamente.